Violento scontro tra due auto nella serata di domenica 14 gennaio all'altezza del civico 136B sulla strada provinciale Sant'Angelo che collega la frazione con Senigallia. Sono al vaglio della polizia stradale le cause della collisione tra una Mini One e una Renault Clio. Erano le 21.45 quando è arrivata la segnalazione al 115 chiamando all'intervento insieme agli agenti della stradale e al personale del 118 anche un mezzo dei vigili del fuoco di Senigallia. I pompieri prima di mettere in sicurezza i veicoli pesantemente danneggiati e finiti fuori dalla carreggiata si sono occupati di estrarre dall'abitacolo il conducente della Mini, un sessantenne che viaggiava con la moglie, per consentire agli uomini del 118 di trasportare al pronto soccorso l'uomo rimasto ferito in maniera non grave. Sull'Arenocleo si trovava invece un altro uomo di circa 40 anni anch'esso rimasto ferito non gravemente e per il quale si sono rese necessarie le cure mediche del caso. Tenta tarapina sabato sera nella ricevitoria tabacchi di via Rossini a Senigallia poco prima dell'orario di chiusura intorno alle 20 un uomo è entrato nel locale. In quel momento all'interno c'era solo la titolare che si stava preparando per la chiusura. La donna ai carabinieri intervenuti sul posto ha riferito di un uomo vestito con abiti scuri e con il volto parzialmente travisato che brandendo un coltello le ha chiesto i soldi. La donna ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto. A quel punto il rapinatore, considerato che a fianco della tabaccheria ci sono altre attività commerciali, è subito scappato. Dell'uomo non c'era traccia quando sono arrivati i militari che ora stanno visionando i filmati di alcune telecamere della zona in cerca di utili indizi. Il comune di Senigallia comunica a tutti coloro che sono iscritti nell'apposito albo dei presidenti di seggio e sono residenti nel territorio comunale che è data loro la possibilità di rendersi disponibili per questo incarico, qualora in prossimità dello svolgimento delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018 alcuni presidenti designati dalla Corte d'Appello rinuncino all'espletamento della funzione e debba quindi intervenire il sindaco per provvedere alla loro sostituzione. Le richieste dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente un modello predisposto dall'ufficio elettorale disponibile nella sede di Piazza Roma 8 o scaricabile dal portale istituzionale del comune www.comune.senigallia.an.it Sono 3.015 le imprese digitali marchigiane secondo una elaborazione dell'ufficio studi confartigianato su dati Union Camere Info Camere al terzo trimestre 2017. Nel triennio 14-17 sono cresciute del 9,9%. Di queste aziende attive nei settori dei servizi internet della realizzazione di portali web, della produzione software e del commercio elettronico, 472 sono artigiane, cioè il 15,7% del totale. Ed ora parliamo di spettacoli. Un teatro gremitissimo ha salutato il debutto della stagione teatrale del teatro La Vittoria di Ostra. A salire sul palco ed infiammare la serata ci hanno pensato i fratelli Severini, storica rock band marchigiana conosciuta con il nome di The Gang. E il cantante del Colorado Tom Sheckon, ribattezzato dalla critica Durangos Dilan, che ha portato sul palco i brani tratti dalla sua ultima fatica Blood in the USA, nel quale sono il bassista di Bob Dylan Tony Garnier. Prima di salutarci, l'appuntamento di domani sera, mercoledì 17 gennaio alle 21 nella sala Ciani del Palazzo Comunale di Corinaldo, con l'incontro dal titolo Radici Culturali della violenza di genere, educazione e stereotipi. Il primo di tre incontri che va ad inserirsi nel progetto Informiamoci, insieme per le pari opportunità. Percorso di informazione e sensibilizzazione rivolto a tutte le associazioni corinaldesi per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Ed è tutto per questa edizione da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.